Vediamo ora sul palco Francesco Più, classe 81, lo conoscete sicuramente, il suo sound è una miscela di blues, funky soul in chiave acustica, si accompagna, abbiamo anche l'opera di Paolo Ercoli, si accompagna normalmente con strumenti quali in chita, Paolo Ercoli che ha fatto gli anni ieri, si auguri! Se non conoscete ancora la musica di Francesco Più, vi invitiamo a scoprirla con l'ultimo album che ha realizzato, si chiama Pisa & Groove, è stato pubblicato proprio a novembre del 2016 per Avalusa Records, sentiamo quindi l'interpretazione di Francesco Più! Buonasera a tutti e benvenuti, è un periodo di crisi, non ho potuto portare il batterista qui grazie! Applausi! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti